Come altri comuni montani, Val di Zolda ha una densità di popolazione molto bassa anche a causa dell'emigrazione stagionale all'estero. Il numero degli studenti è esiguo, sono complessivamente 128 fra scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria. Solo 37 alunni frequentano la seconda e terza media. Il trasporto scolastico è gestito internamente e riorganizzabile a seconda delle esigenze. L'indice di riempimento degli scuolabus non supera l'80%. Questa è la fotografia che il sindaco Camillo De Pellegrina ha inviato al presidente Draghi, a cui ha formalizzato la richiesta di delegare ai sindaci la facoltà di riprendere l'attività scolastica in presenza per tutto il primo ciclo di istruzione, oltre che per la scuola dell'infanzia. Per noi, lo definisco con una parola forte, assurdo lasciare a casa 37 ragazzi, che sono quelli di seconda e terza, mentre gli altri vanno a scuola. Quindi la richiesta è un po' questa. Date fiducia anche ai sindaci che nei loro territori possono comprendere magari meglio le situazioni. Una battaglia che va oltre l'ennunciazione del principio di autonomia per De Pellegrina, che osserva un livello di diffusione del contagio da Covid attualmente basso nel suo comune, contrariamente a quanto rilevato lo scorso dicembre, quando le scuole però restarono aperte. Credo che dopo un anno e più di pandemia alcune logiche debbano essere importate anche nell'applicazione delle misure. Il primo cittadino segnala al presidente Draghi la persistente presenza di divario digitale dovuto alla scarsa connettività di alcune zone del territorio comunale, che comporta gravi disagi agli studenti nella fruizione della DAD, una situazione che accomuna i territori disagiati di montagna. Rendo conto che un povero sindaco di montagna che si permette di scrivere al presidente del Consiglio è una cosa un po' forte. Di fatto però credo che non rimanga altro.